13 novembre 1936 nasce a Fiesole Dacia Maraini fra le più note scrittrici italiane è negli anni 70 fra le fondatrici del teatro della Maddalena gestito da sole donne qui cinque anni più tardi sarà rappresentato il dialogo di una prostituta con un suo cliente tradotto in inglese e francese e rappresentato in 12 paesi diversi io sono dalla parte delle donne perché penso che sia giusto così prima di tutto perché sono una donna io perché mi riconosco nella storia delle donne perché penso che c'è stata tanta ingiustizia e siccome io sono istintivamente portata a mettermi dalla parte di chi subisce le ingiustizie anche gli uomini per carità dove ci sono ingiustizie mi sento portata a reagire a Grazie a tutti.